Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video! Oggi faccio un book tag, un book tag che mi è piaciuto moltissimo, anche soltanto il titolo 50 domande scomode. L'ho trovato sul canale di Martina, Ima in the Books, e vi lascio il link al suo video nella descrizione. Direi di cominciare perché le domande sono tante, comunque cercherò di essere breve in modo da non fare un video infinitamente lungo. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirà un mio nuovo video. E se non lo fate già di seguirmi su Instagram, io sono Martina Tazza. Cominciamo! 1. Copertina rigida o tascabile? In realtà per me è abbastanza indifferente, nel senso che esteticamente magari la copertina rigida è un po' più carina da vedere in libreria, però non do particolare importanza a se il libro abbia o meno la copertina rigida. 2. Sovracopertina su o no? In questo caso vi rimando al video delle mie manie da lettrice che vi lascio qui e nell'info box, perché lì ho parlato proprio di questo. Una delle mie manie è il fatto che io ottengo sempre la sovracopertina. 3. Libri nuovi o usati? Anche in questo caso per me è indifferente, semplicemente compro più libri nuovi perché non ho tante occasioni di trovare anche libri usati, però quando trovo qualche bancarella di libri usati non mi sono mai fatta problemi ad acquistarne. 4. Audiolibri sì o no? Decisamente sì, io ho ascoltato via via qualche audiolibro e penso sia molto utile soprattutto per chi è pendolare o comunque viaggia molto, perché l'audiolibro tiene tanta compagnia, però al momento non li ascolto, non li ascolto quasi mai perché non ho nessun abbonamento, né a Audible né a Storytel, perché per quanti volumi riesco ad ascoltare il prezzo è troppo caro, quindi non mi merita avere questo tipo di abbonamento. Usufruisco a volte di qualche promozione, magari un mese gratuito in una delle due applicazioni, allora in quei casi ascolto sempre qualcosa. 5. Compri libri basandoti solo sulla copertina? Sicuramente mentirei se dicessi che la copertina non ha nessun peso, a meno che io non sappia già dal principio quale titolo io voglio acquistare, quindi magari quello che mi interessa è appunto il contenuto perché già a grandi linee lo conosco, se sono in libreria sto semplicemente curiosando, ovviamente i libri con una copertina che rientrano i miei gusti sono quelli che mi attraggono prima, quindi sì la copertina è importante anche se ovviamente non è l'elemento fondamentale. 6. Un libro bello con una brutta copertina? Per questa domanda ho scelto Noi di David Nichols che ha una copertina che non mi ispira particolarmente, magari non l'avrei comprato se non fosse stato scelto dal mio club del libro, allora in quel caso appunto l'ho acquistato senza considerare la copertina e il libro mi è piaciuto molto, quindi anche se la copertina non è proprio nei miei gusti il libro merita. 7. Un libro brutto con una bella copertina? In questo caso invece vi mostro Red Girls di Sakuraba Kazuki, la copertina è bellissima e infatti sono stata super felice di collaborare con Edizione O che mi ha inviato questo libro quando è uscito, però in realtà la storia non mi ha appassionata più di tanto, l'ho trovata un po' lontana da quelle che sono le mie corde, le mie conoscenze, veniva descritta una cultura nella quale non riuscivo a distinguere gli elementi fantastici o magari legati più a una tradizione popolare rispetto a quelli relativi alla realtà. Mi sono sentita un po' spaesata soprattutto da metà in poi e quindi non è un libro che mi è piaciuto particolarmente, però la copertina è veramente bellissima. 8. Il primo libro che hai letto? Non ricordo esattamente qual è stato il primo libro in assoluto che io abbia mai letto, però ho ancora da qualche parte in casa, non so di preciso dove però ce l'ho, un libretto piccolino che raccontava la storia di Babbo Natale. Me lo leggeva il mio babbo quando ero piccola, ancora non sapevo leggere, però mi ha detto che l'avevo imparato a memoria perché me lo facevo leggere veramente ogni sera. È un ricordo prezioso e quindi quello è il primo libro che associo alla mia vita da lettrice. 9. L'ultimo libro che hai finito? L'ultimo libro che ho letto è Come insegnare l'intelligenza ai vostri bambini, un regalo di Natale. È un libro che si è rivelato veramente interessante, non vedo l'ora di parlarvene nelle letture del mese. 10. L'ultima serie che hai finito? Io non leggo praticamente serie, quindi credo di non aver terminato nessuna serie durante tutto il 2020. Forse l'ultima che ho letto è stata L'amica Geniale. 11. L'ultimo libro che hai comprato? L'ultimo libro che ho comprato è Senza Buddha non potrei essere cristiano, un libro che volevo da tantissimo tempo, l'ho ricevuto proprio pochi giorni fa, l'avevo chiesto a Babbo Natale e alla fine me lo sono dovuta regalare da sola, però la lettura credo più interessante che ho al momento in libreria, non vedo l'ora di iniziarlo. 12. Il tuo genere preferito? Il mio genere preferito è sicuramente il romanzo storico. 13. Qual è il tuo libro preferito di questo genere? Non potrei non nominare Mondo senza fine di Ken Follett, il primo romanzo storico dell'autore che ho letto che poi mi ha aperto un mondo in quelli che sono poi i suoi romanzi storici che io adoro. 14. Quale genere non leggi molto? Non leggo molto fantasy, non è un genere che mi è mai piaciuto neppure da ragazzina e anche adesso è un genere che praticamente non fa parte delle mie letture. 15. Leggi poesie? No, non leggo praticamente mai poesie, ho credo una sola raccolta di poesie nella mia libreria che mi è stata regalata direttamente dall'autrice. Sono stata felice di averla letta, però di solito non leggo poesie. 16. Leggi saggistica scientifica? No, non leggo saggistica scientifica. 17. Leggi libri per ragazzi, bambini? Allora, io per me non leggo libri per ragazzi, se escludiamo Harry Potter non leggo libri per ragazzi. Libri per bambini li leggo non tanto per me ma per mia figlia perché tutte le sere leggiamo un libro insieme, quelli quindi sono presenti in casa e ne ho letti diversi insomma negli ultimi mesi. 18. Hai abbonamenti a Bookbox? No, non ho nessun tipo di abbonamento a Bookbox. 19. Qual è il tuo articolo libresco preferito? Allora, io ho un piccolo libro che adesso non è qui con me perché l'ho risistemato nelle scatole insieme alle cosine di Natale. È una scatolina appunto a forma di libro che si apre, è proprio un piccolo contenitore e sopra la copertina del libro c'è la Sacra Famiglia, quindi è un piccolo articolo che tiro fuori tutti gli anni per Natale e lo tengo sul mio comodino. Mi piace moltissimo e sono felice di averlo comprato. 20. Qual è il tuo segnalibro attuale? Al momento ho questo segnalibro sonoro che è un articolo artigianale, c'è una piuma di metallo e la parte finale, quella che poi esce dalle pagine del libro, sono delle perline e un fiocchino. Mi è stato regalato per Natale ed è quello che sto tenendo all'interno del libro in lettura. 21. Qual è l'oggetto più strano che hai usato come segnalibro? In realtà qualsiasi cosa, nel senso che quello che mi trovo di fronte nel momento in cui ho bisogno di un segnalibro poi lo uso, quindi può essere uno scontrino, le figurine dell'album, della bambina, qualsiasi cosa. Dico soltanto che se ho fretta e veramente non c'è niente intorno che io possa usare, infilo in mezzo al libro il cellulare. 22. Sovracopertina o no? A questa domanda ho già risposto e quindi niente, la sovracopertina comunque sì, io la tengo. 23. Chi è la tua crush nei libri? Come ha risposto anche Martina nel suo video, sono troppo vecchia per queste cose, quindi questa domanda la salto. 24. Coppia preferita? Allora in realtà quando ho pensato a come rispondere a questa domanda mi sono venuti in mente libri come Uccelli di rovo o Via col vento, dove però le coppie hanno veramente una vita molto tormentata, quindi non mi sembrava proprio il caso di proporla come coppia ideale perché appunto vivono delle situazioni abbastanza difficili. Quindi per questa domanda decido di rispondere con Erika e Patrick, i protagonisti di Camilla Lekberg nella sua serie di gialli che iniziano proprio con La principessa di ghiaccio. I due protagonisti mi sono sempre piaciuti, sono loro due che poi insieme collaborano per risolvere i casi, dato che li trovo molto naturali, molto veritieri, molto semplici e poco costruiti, secondo me sono una coppia che potremmo davvero conoscere nella nostra vita e nella quale ritrovarsi, quindi mi piacciono molto. 25. Il cattivo preferito? Per me Piton assolutamente, anche se non è un vero cattivo, però è un personaggio meraviglioso, il mio preferito in assoluto. 26. Avventura preferita? Sicuramente quella di Mangia Prega Ama, quella che ha fatto poi effettivamente l'autrice Elizabeth Gilbert, il suo viaggio di tre mesi in Italia, India e Bali. 27. Serie, trilogie o stand alone? Allora direi stand alone perché io non leggo serie praticamente. 28. Ebook o cartacei? Decisamente cartacei, io non leggo quasi mai in ebook, molto molto raramente, per il resto tutti i libri cartacei. 29. Qual è il tuo adattamento preferito? In realtà ne ho visto uno recentemente, visto che mi è piaciuto tantissimo, vi nomino questo. Piccole donne, ho visto l'adattamento, l'ultimo adattamento del 2019 se non erro, mi è piaciuto tanto, 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 tanto. Credo che tutte le... io ho letto soltanto il primo libro di Piccole donne e tutte le scene del film che appunto si rifacevano a qualcosa accaduto nel primo libro, secondo me sono state rese in maniera meravigliosa. Mi sono piaciuti i costumi, gli attori, tutto e quindi direi Piccole donne. 30. Adattamenti cinematografici o serie? Direi adattamenti cinematografici perché io guardo pochissime serie e tendenzialmente quando ho visto qualche adattamento che è partito appunto da un libro, ho visto un film, quindi dico film. 31. Quale libro ha bisogno di un adattamento? Secondo me Come fermare il tempo è un bellissimo romanzo che potrebbe adattarsi perfettamente al grande schermo. Non so se in realtà stanno già lavorando a qualcosa del genere, ma se non lo stessero facendo secondo me dovrebbero farlo perché è una storia molto accattivante. 32. Il miglior mondo libresco? Harry Potter. Qui non c'è niente da aggiungere, chi non vorrebbe vivere in un posto del genere, quindi assolutamente il mondo magico di Harry Potter. 33. Stile di scrittura preferito? Lo stile di scrittura che preferisco è quello in cui c'è la giusta dose di azione e descrizioni. Le descrizioni secondo me devono essere abbastanza dettagliate da permettermi di sentire sulla pelle quello che viene descritto, quindi i suoni, gli odori, i sapori e devo avere anche un'immagine abbastanza chiara nella mente di come sono i personaggi, ma la bravura dello scrittore sta proprio nel descrivere tutto questo senza usare troppe parole e ci sono, ce ne sono di bravi scrittori che lo sanno fare. Inoltre adoro quando un libro ha anche la giusta dose di dialoghi, ma che non sono solo dei semplici dialoghi, ma ci viene fatto percepire che cosa pensano i vari personaggi mentre parlano, che cosa provano, che cosa le ha portati a dire determinate cose e così via. Quindi direi che tendenzialmente Ken Follett, essendo anche il mio autore preferito, ha uno stile di scrittura che rispecchia un po' tutti questi aspetti. 34. Quale libro ami ma nessuno lo conosce? Per questa domanda nomino Anna e l'uomo delle rondini, che ho ricevuto per Natale qualche anno fa, una storia molto dolce, un'avventura di una giovane ragazza che si trova a vivere in un periodo della storia molto complicato, un libro molto bello, emozionante, che però non ho mai visto nominare da nessuno e che quindi vi consiglio. 35. Un libro popolare che tu hai odiato? 50 sfumature di grigio, popolarissimo, odiato, ho letto solo quello, orribile, e Cime tempestose, che in questo caso so che qualcuno si metterà le mani nei capelli, però io non sono riuscita neppure a terminarlo perché non mi piaceva. 36. Letture dell'infanzia che hai amato. Allora, durante la mia infanzia ho letto un po' di tutto, c'erano i libri delle ragazzine, c'era Piccoli Brividi, Quattro amiche e un paio di jeans, quindi storie che chi ha la mia età sicuramente ricorda, ma io ho un ricordo di un libro bellissimo che ho adorato, che era La bambina della sesta luna. Non so se qualcuno di voi lo conosce, in realtà alla fine erano, se non erro, quattro volumi. Bellissimo, un'avventura fantastica, c'era anche nella sovracopertina all'interno l'alfabeto segreto, che appunto veniva usato dalla protagonista, ma che anch'io usavo con le mie amiche. 37. Un libro che ti ha cambiato la vita. Ne nomino due, Big Magic, che è stato il primo libro di crescita personale che abbia mai letto, e Tu, l'universo e il denaro, che ho letto invece più recentemente, che ho consigliato al mondo intero perché è veramente fantastico, bellissimo, leggetelo. 38. Un libro che hai odiato a scuola. In realtà non ci sono libri che ho particolarmente odiato a scuola, ricordo di aver letto qualcosa di letteratura tedesca che non mi era particolarmente piaciuto, però non ricordo neppure il titolo perché forse era una lettura minore, insomma, però di solito quello che mi veniva assegnato da leggere l'ho sempre letto abbastanza volentieri. 39. Compri per collezione? No, di solito non compro con l'unico scopo di collezionare un determinato libro. L'unica cosa che ho piacere magari di farvi vedere è questa serie di Jules Verne, che però non sono proprio libri da collezione, li ho comprati in edicola, però sono tutte le sue opere maggiori in queste edizioni rilegate, molto molto belle, non credo che le leggerò a breve, magari in futuro, insomma, però in libreria sono sicuramente meravigliose, quindi questa piccola collezione sono felice di averla. 40. Doni libri? Sì, mi capita di regalare libri, però lo faccio praticamente solo con chi so che poi li leggerà, quindi di solito i miei familiari o mio marito o gli amici del club del libro. 41. Il tuo snack da lettura preferito? Di solito non mangio, quando leggo mi può capitare a volte di bere un tè, ecco quello sì, magari nel pomeriggio se ho voglia di un tè, poi insieme con me c'è sempre il mio libro. 42. La tua posizione preferita per leggere? Allora, io leggo quasi sempre a letto la sera, però la mia posizione preferita è su un'amaca, su un dondolo all'aperto in primavera o in estate. 43. Luce naturale o lampada? Se c'è la luce naturale, ovviamente prediligo quella, anzi, col bel tempo leggo sempre all'aperto, altrimenti luce artificiale. 44. fuori o dentro? Fuori, se possibile, ovviamente in inverno, dentro, davanti al caminetto, è una buonissima opzione. 45. Rompi le copertine o stai attenta? Sto attenta, assolutamente, no no, sto molto attenta, cerco di non rovinare i libri che leggo. 46. Leggi anche in altre lingue? Quasi mai, ho alcuni titoli in inglese che dovrei leggere per mantenere allenato il mio inglese per l'appunto, però alla fine non li leggo mai perché sono molto più veloce, chiaramente, in italiano e quindi non leggo quasi mai in lingua. 47. Che serie di libri vorresti finire di leggere quest'anno? Una serie che vorrei finire di leggere quest'anno è Piccole Donne, perché appunto ho letto il primo volume a dicembre e quindi magari quest'anno, se riesco, vorrei leggere anche gli altri tre. 48. Per quale uscita hai più hype in questo momento? Per nessuna. L'ultimo libro di Ken Follett è uscito alla fine dello scorso anno, quindi al momento non c'è nessun libro che io attenda in maniera particolare. 49. Hai un book influencer preferito? Seguo diverse persone che parlano di libri soprattutto su Instagram, anche su YouTube però mi capita più raramente di ascoltare appunto book influencer, invece su Instagram assolutamente sì. Quindi per Instagram nomino Chiara, Chiara sui libri, che mi piace tantissimo e con la quale condivido anche molti dei miei gusti, mentre su YouTube adoro ascoltare Martina, Ima in the Books, perché mi piace tantissimo sentirla parlare di libri e poi ha un accento siciliano fantastico e quindi mi incanto sempre quando parla di libri. 50. Hai un canale, un blog o un altro social? Sì, ho questo canale dove state vedendo il video, ho un sito che è www.martinabelli.it, ho un profilo su Instagram che si chiama martinatazza, comunque trovate tutti i riferimenti qui sotto, quindi se vi va seguitemi anche lì. Bene ragazzi, il video finisce qui, spero che non sia troppo lungo perché ovviamente ora lo sto registrando ma mi mangerò le mani quando lo dovrò editare e noi ci vediamo prestissimo con un altro video. Ciao!